Il Mediterraneo è un Mediterraneo all'interno di un contesto europeo, da anni io sento dire che ero capito che Napoli è il centro, è la capitale del Mediterraneo, questa centralità è ancora possibile divindicarla in un periodo come questo che è pieno di conflitti più che di tensioni unificanti. Sicuramente Napoli ha un po' strategico da questo punto di vista, lo sforzo che noi dobbiamo fare è trasmettere questo messaggio ai nostri giovani, i nostri giovani possono vedere il Mediterraneo, anche l'Europa come qualcosa di astratto e lontano dalle loro vite, non sapendo che poi magari anche alcuni progetti che loro realizzano, penso a dei corsi di formazione o anche alcune opportunità che loro hanno, in realtà ci sono grazie all'Europa e quindi quello che è lo sforzo che forse dobbiamo fare è cercare di avvicinarli magari con queste opportunità, con queste maniere più concrete per renderli veramente cittadini d'Europa. Grazie.